Signorita, nuova Fashion Academy, partizante Disco Club, in questa occasione l'Accademia è onorata di presentare la Fashion Designer Federica D'Andrea Giovanni. La sinistra eco-modellista D'Amescara, questa notte con le sue capsule della Commissione, director of theater space, le sue due creazioni, la seconda con la 20i del legno, la seconda con la 20i del legno. Queste due sue creazioni vorranno essere un inno alla sua vocazione, il ritorno alla parte più vera e istitiva che è il di noi. Un applauso, Federica D'Andrea Giovanni. Che è 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 un applauso, Federica D'Andrea Giovanni. Vieni da buona e grazie!